ecco allora benvenuti soprattutto benvenuto giovanni e grazie per questa questo tuo intervento giovanni bergamin trevigiano di zona trevigiana di origine il filosofo di studi che non ho capito male con tanto con tanto tanta esperienza soprattutto biblioteca nazionale di firenze il mio progettario eccetera adesso si è confrontato ultimamente con wiki base e il lavoro che ha fatto evidentemente con diversi alcuni alcuni di noi come compreso potenzialmente ha portato un uso di wiki base sperimentale e giovanni poi lo è steso a questo anche al come ccms che forse la cosa che in questo momento mi incuriosisce di più sapere quindi dicevo direttamente la parola e alla fine faremo come nostro consuetudine un piccolo un giro di domande o di interventi di chi vuole non sento l'audio giovanni non so perché perché poco fa ci sentivamo benissimo continuano sentire l'audio di giovanni purtroppo non so se un problema mi sentite ecco perfetto si no vabbè niente c'era un problema di attivazione dell'audio credevo di averlo attivato invece allora grazie per per avermi invitato è un piacere essere qui con voi e diciamo non ho preparato 300 slide ne ho preparate pochissime una ventina vi invito davvero a fermarmi in qualsiasi momento se le cose non sono chiare o sono troppo risapute conto molto su di voi anche perché voglio dire eventualmente posso in qualche modo se riesco coprire con le esigenze particolari io spero di darvi un quadro abbastanza aggiornato in due in due diciamo settori il primo sicuramente che riguarda wiki base ma il secondo anche di novità possibili naturalmente collegate wiki base che riguardano il mondo mamb parlerò anche dell'esperienza che tra l'altro abbiamo fatto con stefano del laboratorio 4 ora poi vi racconterò due 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 frasi su che cos'è il laboratorio 4 che può essere indubbiamente interessante per capire anche una sperimentazione quindi può essere interessante per capire meglio wiki base vedremo anche che cos'è il ccms anche qui fermatevi se le cose non sono chiare anche in chat ora io cercherò di stare attento anche alla chat mettiamo qui la chat così vediamo tutto ok allora qual è il problema che cerchiamo di risolvere con che in questo in questo periodo con wiki base voi sapete si possono fare tantissime cose l'idea che da tempo sto e stiamo perché ho lavorato con con altri prima di tutto primo fra tutti christian bacchi dove abbiamo visto l'applicabilità di wiki base il mark abbiamo anche anche lì messo assieme un molto tempo fa un primo gruppo di lavoro poi per tante ragioni la cosa si è fermata ora wiki base si presenta in maniera diversa e più a mio avviso più accessibile e quindi vale la pena fare qualche riflessione in più tutte le biblioteche quindi il mio punto di vista ovviamente è bibliotecario però poi vedremo di avere anche diciamo nel corso della conversazione anche uno sguardo mappa la cosa oltre alle raccolte bibliotecarie abbiamo anche raccolte non canoniche cioè nel senso che non sono pubblicazioni diciamo la biblioteca di solito raccoglie pubblicazioni che hanno anche se non è vero insomma la parte principale delle raccolte di una biblioteca sono indubbiamente libri periodici cioè tutto quello che passa attraverso un'editoria la biblioteca può sicuramente essere anche lei un editore però qui stiamo parlando di raccolte non canoniche ovvero ad esempio raccolte di foto video di eventi raccolte di dati statistiche tutta una serie di oggetti digitali mi limito agli oggetti digitali che possiamo chiamare risorse documentarie chiaramente non sono risorse archivistiche e ho trovato il termine risorse raccolte non canoniche ma voglio dire accetto suggerimenti per il miglioramento del termine di solito questo tipo di raccolte viene trattato in un sito web tipicamente con il sito web istituzionale anche con servizi collegati youtube zenodo internet archivistica eccetera perché ovviamente il sito web di solito diciamo non ha quello che viene chiamato anche può non avere un dam digital asset manager cioè diciamo un repository dove si tengono gli oggetti file digitali di solito come sappiamo tutti il sito web è diciamo gestito da un content margin system tutti noi conosciamo ad esempio wordpress e tanti altri per gestire questi oggetti ci sono anche altre soluzioni ad esempio almeno i metadati si potrebbero integrare nei software che si usano in biblioteca normalmente qui trovate le sigle internazionali integrate del library system o il library management system semplicemente e si possono anche trattare negli questo terza soluzione quindi la prima il cms la seconda il sistema di gestione della biblioteca tipicamente però per i metadati oppure soluzioni si possono trovare anche negli strumenti per i depositi istituzionali tipicamente le università hanno depositi istituzionale con e prince di space ora diciamo in italia è molto diffuso l'iris ci sono anche strumenti per la gestione delle digitalizzazioni della digitalizzazione delle raccolte cioè questo tipicamente usato dalle biblioteche storiche diciamo diciamo molte biblioteche penso per esempio ecco qui abbiamo di space glam usato ad esempio dalla biblioteca nazionale di napoli ma anche altre o meca fai dra metafad eccetera allora qui per non far torto a nessuno ho scelto esempi tutti open source se mi sono diventato e sono esempi per capirci se avete suggerimenti per una prossima presentazione di suggerire qualcosa sempre di open source che in questo momento ci sono sempre novità e quindi accetto con piacere e segnalazioni cioè voglio dire non voglio far torto a nessuno che sta usando in questo momento altre cose come si integra nel caso che io opti per una abbiamo visto sono quattro le soluzioni per trattare questo tipo possibili soluzioni per trattare questo tipo di materiale come si integra l'accesso per l'utente soprattutto beh anche poi per gestire c'è un problema ovviamente di gestione da parte della biblioteca di questione se gli oggetti se i repository cominciano a essere più di uno come di solito succede del resto ma soprattutto ovviamente il problema è per l'utente cioè come si integrano web repository teca digitale ecco teca digitale o digital library è il nome della quarta soluzione strumenti per la gestione della digitale anche questi strumenti di solito sono citati anche come teca digitale o digital library digital library viene lasciato in inglese per esempio recentemente l'archivio di stato ha installato una digital library e nelle pagine web troviamo proprio digital library non viene chiamato biblioteca digitale niente di male a usare l'inglese bisognerebbe capire perché in questo caso si usa l'inglese qual è una delle soluzioni tipiche nel mondo delle università per l'integrazione l'integrazione avviene attraverso i web scale di discovery system chiamati anche discovery tool ho messo il punto interrogativo sono sufficienti c'è da lavorare credo di sì anche se diciamo magari anche qui ovviamente è tutto ovviamente discutibile si può sicuramente discutere ma sicuramente discovery tool è un buon strumento pragmaticamente è un ottimo strumento di integrazione allora qui abbiamo anche diciamo come ora poi vedremo dirò due parole per chi non conosce il laboratorio 4 due linee di lavoro e diciamo sono le due cose anche che diciamo i due argomenti che tratterò brevemente le slide sono 21 l'ultima slide è costituita da link che vedremo assieme e quindi una parte pratica però ecco la parte teorica molto noiosa finirà sostanzialmente alla slide numero 20 allora queste le due possibili linee di lavoro allora intanto la linea di lavoro schema.org molto utile anche per Wikibase per il lavoro in Wikibase e l'obiettivo finale qual è l'obiettivo? far entrare il web semantico nella gestione quotidiana del mondo MAMB il web semantico con Wikidata è entrato diciamo che ci si deve preoccupare di Wikidata dei contenuti però tutti i meccanismi di pubblicazione del web semantico sono gestiti da Wikidata ecco bisognerebbe fare idealmente qualcosa del genere anche nelle biblioteche e più in generale nel mondo MAMB vediamo concretamente quello che si può fare allora lo conosciamo tutti però ricordiamo che schema.org lo dico all'italiana insomma si potrebbe pronunciare anche schema ma insomma ci capiamo nasce nel 2011 da un accordo tra i vari motori di ricerca principali motori di ricerca e sostanzialmente è un'ontologia che risponde alla domanda quali sono le entità che vengono cercate con l'aiuto dei motori di ricerca cosa cerca la gente con i motori di ricerca cerca vuole comprare libri cerca l'indirizzo della toilette dove portare il gatto eccetera ovviamente ecco quindi l'ontologia è un'ontologia come si dice molto molto generalista molto alto livello non intende ovviamente sostituire le ontologie di dominio le biblioteche continueranno a avere la loro ontologia così gli archivi ma l'idea è quella di l'obiettivo è quello di offrire più possibilità di accesso senza rinunciare la propria specificità se non viene usata un'ontologia di dominio se viene usata scusate un'ontologia di dominio la pubblicazione dei metadati anche con schema orgo può essere automatica cioè non è necessario che diciamo chi gestisce i dati di dominio crei che ne so manualmente anche una versione con schema orgo di solito diciamo i dati per i motori di ricerca sono creati con mediante conversioni automatiche ecco vediamo schema orgo ovviamente se è diffuso oppure no dunque esiste questo progetto che viene aggiornato adesso viene aggiornato l'anno siamo fermi al diciamo l'ultimo aggiornamento è quello del 2021 le pagine web esaminate in questo è una raccolta di pagine web per ispezionare le pagine web e vedere se le pagine web contengono anche i metadati con schema org i metadati schema org sono rdf e quindi comprensibili dai motori di ricerca e sono quindi diciamo fanno parte ovviamente del web semantico del web dei documenti scusate del web dei dati non del web dei documenti le pagine web quindi il campione 3,2 miliardi di pagine il campione esaminato di questi 3,2 miliardi 1,5 miliardi avevano le pagine web con dati strutturati quindi e diciamo ogni anno sta aumentando quindi quasi la metà parliamo di 82 miliardi di triple ah qui la slide non è molto coordinata però ecco volevo far vedere chi aveva fondato i motori di ricerca manca un punto in questa slide che è in continuo aggiornamento tra l'altro l'aggiornamento viene fatto se ce n'è bisogno cioè se qualcuno lo chiede e se ci sono il principio della literary warrant cioè se c'è qualcuno che lo chiede per esempio domini specifici che hanno bisogno di determinate entità e fino a quando diciamo quella determinata entità non è usata in maniera estesa da più pagine web diciamo viene pubblicata a livello provvisorio e diventa definitiva solo se raccoglie un uso da parte di chi pubblica pagine web qui qui ho fatto uno schema di come funziona l'ontologia che riguarda musei archivi e biblioteca diciamo non sono andato a livello di sono rimasto a livello molto generale cioè il livello della creative work per esempio per le biblioteche e poi ovviamente il luogo e l'organizzazione ora vedremo e diciamo non è tutto è la parte diciamo più ad alto livello dell'ontologia se qualcuno di voi conosce l'RM anche l'RM che immagino tutti ma anche l'RM ha come livello più alto della gerarchia delle classi queste sono le classi gli insiemi più alti di entità thing la cosa è ovviamente l'oggetto più alto di tutta l'ontologia schema per quanto riguarda invece per arrivare a musei archivi e biblioteche si può passare per organization local business library oppure per place local business library sono due percorsi e si arriva alla biblioteca quindi poi la biblioteca quindi eredita come sapete è una sottoclasse quindi eredita anche le proprietà delle classi superiori il percorso invece per andare al museo passa attraverso la civic structure ora la traduzione di local business la la lascio a voi è qualcosa da sicuramente da approfondire ed è qualcosa e poi i gruppi che hanno lavorato per creare questa ontologia possono anche documentare ecco la parte relativa agli archivi e dunque allora vi dicevo nel 2013 c'è stata la prima pubblicazione di Schema.org solo nel 2018 viene attivata anche ed è ancora sperimentale la parte relativa agli archivi cioè mentre si trova la biblioteca library e museum non si trova l'archive ma si trovano due classi l'archive organization ovviamente è diciamo l'organizzazione archivio e l'archive component allora l'archive organization segue lo stesso per arrivare all'archive organization ci sono gli stessi percorsi della biblioteca quindi si passa attraverso l'organizzazione oppure si passa attraverso place in ogni caso è un local business mentre invece per l'archive component quindi diciamo le raccolte archivistiche quindi diciamo l'archive component può essere sia un insieme sia ovviamente un documento poi vedremo questo aspetto e ovviamente ci sono due proprietà che legano l'archive organization e l'archive component quindi le classi per quanto riguarda l'archivio sono sdoppiate anche qui trovate ovviamente una lunga discussione e il perché di questa soluzione una delle possibilità interessanti che poi vi farò vedere qualche esempio dell'ontologia Schema.org è la funzionalità Multi-Typed Entities cioè un'entità può essere un'istanza di più di classi diverse ad esempio io ho un documento questo documento ha un suo indirizzo quindi siamo nel rigore semantico ovviamente quindi tutto è referenziato con indirizzo quindi il soggetto è un indirizzo web un URL è di tipo cioè un'istanza di archive component cioè il documento è un elemento che compone archive component è una classe definita poi si può trovare la definizione e questo documento è un messaggio quindi ha due tipizzazioni due istanziazioni una come componente dell'archivio per esempio potremmo avere beh insomma facciamo l'esempio diciamo addirittura può fare riferimento il libro ad esempio potrebbe essere un'istanza cioè un determinato una determinata risorsa potrebbe essere un'istanza di libro e potrebbe essere anche contemporaneamente istanza di prodotto quindi insomma è evidente che di solito nella realtà la doppia classe di appartenenza può esserci l'insieme di documenti invece fondo serie, sottoserie ora se c'è un archivista in ascolto può correggere liberamente la mia terminologia se non è adeguata in ogni caso ecco diciamo si può ovviamente anche questa anche l'insieme è un archive component e sarà di tipo collection o altri tipi ovviamente l'archive component di tipo collection e l'archive component di tipo messaggio saranno legati tra di loro da una proprietà fa parte di e comprende quindi un'associazione di tipo gerarchico ovviamente perché la collezione comprende il tutto comprende anche il sotto insieme fino ad arrivare al documento vero e proprio ecco siamo arrivati a Wikibase Cloud questo lo sapete meglio di me che lo scopo di Wikidata anche questa nasce nel 2013 sapete che appunto centralizza i dati presenti nelle varie versioni della Wikipedia e sapete anche che in questo momento è estendibile anche a tutto quello che può essere descritto utilizzando qui alla traduzione letterale riferimenti affidabili quindi ci possono essere e ci sono ora proprio in questi giorni Wikidata superato i 100 milioni di entità e diciamo ovviamente tutto quello che c'è non è detto che sia presente in Wikipedia veniamo invece a quello che ci riguarda più da vicino con nel 2021 nella conferenza Wikidata con 2021 qui ho riassunto il risultato di questa conferenza non è sostenibile una centralizzazione di tutti i metadati del mondo in un unico DB, in un unico grafo cioè se diciamo continuare a mettere tutto dentro Wikidata ha dei problemi di sostenibilità la nuova strategia è lavorare anche in maniera federata facilitando il nascere di iniziative indipendenti quindi far nascere l'obiettivo è far nascere l'ecosistema Wikibase come sapete quindi Wikibase è il motore software di Wikidata attualmente l'ecosistema Wikibase meglio Wikibase dà due possibilità la possibilità di riusare tutta la tecnologia Wikibase quindi fare una propria installazione Wikibase si chiama Wikibase Suite oppure non occorre installare niente ma come si fa con ad esempio Google Drive uno crea un account su Google e ha Gmail, Google Drive eccetera quindi un Wikibase come servizio Wikibase as a service questo è Wikibase Cloud ovviamente è del tutto gratuito se l'obiettivo è quello di diciamo si può decidere ovviamente chi ha il diritto di aggiornare la propria installazione Wikibase ma Wikibase Cloud è pensato per essere ovviamente disponibile per tutti come LinkedIn Open Data Web è facile da usare quindi ha una bassa barriera di ingresso in pratica ora offrendo ovviamente Wikibase ma in pratica è come usare un foglio Excel in Cloud tipicamente su Google Drive ma ci ne sono tanti altri Cloud con qualche funzionalità in più per chi è e questo cito dalla strategia nata la strategia che ha Wikimedia Deutschland per Wikidata per Wikibase in particolare è fatto per tutte le organizzazioni che hanno bisogno di trattare i dati strutturati e soprattutto per tutto il mondo Glam intorno al mondo quindi è pensata proprio per il Glam il Glam sono le organizzazioni che si ritiene possono dare un contributo non solo attraverso Wikidata ma anche attraverso Wikibase qui è una slide un po' filosofica non so se è venuta molto bene ma comunque diciamo spesso si fa confusione diciamo tra web dei dati e web dei documenti quando Tim Berners-Lee pensa al web dei documenti pensa al caso A cioè al documento web non è il documento originale quindi è chiaro che non diciamo separare web dei dati web dei documenti non vuol dire destrutturare i documenti originali semplicemente stiamo parlando del documento web dove c'è un livello di presentazione che è comprensibile dalle persone come insieme è un livello di struttura al quale dobbiamo fare attenzione per esempio con Schema.org perché le macchine ad esempio un motore di ricerca ma tante altre applicazioni possono capire i contenuti cioè possono capire che si sta parlando di libri di titolo di un libro si sta parlando di un film si sta parlando di tutte le entità che si trovano su web ovviamente ovviamente il documento originale resta così com'è e diciamo il documento originale di solito viene controllato attraverso metadati strutturati ma anche attraverso metadati non strutturati è evidente che i metadati non strutturati sono comprensibili dalle persone ma ovviamente non sono reggibili dalla macchina e quindi non possono far parte del web semantico ecco qui ho avuto ho visto l'annuncio della pubblicazione di un CCMS ora ha un suo nome qui non l'ho citato perché tanto non è importante da parte di Adobe e ho pensato sostanzialmente che allora il CCMS potrebbe essere almeno a livello metaforico ecco non non sto parlando ho guardato un po' i CCMS esistenti sono pensati per altri scenari ad esempio ora poi ho messo un asterisco perché ci sono tutta una serie di collegamenti a proposito dei CCMS cioè che allora il content managing system del del sito web tipicamente è pensato per gestire pagine web il component content management system è pensato per gestire gli elementi primi cioè quelli che poi possono essere riusati cioè quello che diciamo le componenti o i componenti delle pagine web ripeto i CCMS esistenti sono pensati per altri scenari ad esempio per produrre documentazione online di complessi prodotti e servizi non ci riguardano come biblioteca i CCMS esistenti però i principi che regolano i CCMS cioè il componente e il riuso del componente la versione autorevole sono cose che possono ovviamente interessare anche la biblioteca e la gestione degli oggetti vi ricordo che noi siamo partiti come caso d'uso di Wikibase la gestione di oggetti digitali che la biblioteca produce nel corso della sua attività video di eventi anche il video che stiamo producendo ora se fosse prodotto in biblioteca diciamo potremmo decidere di trattarlo se lo riteniamo utile per i servizi che intendiamo erogare ecco stiamo parlando di questo dominio se vogliamo stiamo forzando un po' le cose anche Wikidata potrebbe essere visto come il CCMS delle varie versioni linguistiche di Wikipedia come abbiamo visto non è solo questo tra l'altro un uso simile ai CCMS lo ha spiegato Barbara Fischer quando voi sapete che il GND sta cercando sta lavorando per creare un'interfaccia Wikibase di fruizione ma anche offrendo possibilità di aggiornamento quindi l'autority file tedesca GND usando Wikibase oltre a usare Wikibase come database sostanzialmente dei 9 milioni di voci di autorità del GND Wikibase sarà usato anche come CCMS per le regole tra virgolette le regole di catalogazione o meglio anche addirittura i dettagli delle regole di catalogazione che i bibliotecari del CND usano per tenere sotto controllo gli aggiornamenti e tutte cose di questo tipo sarà molto interessante vedere le specifiche per ora diciamo quello che i documenti che ho visto io ho visto semplicemente degli esempi ma diciamo non è ancora chiaro molto interessante anche questo tipo di uso ecco abbiamo finito la presentazione Stefano decidi pure tu allora io direi diamo spazio magari se qualcuno vuol fare degli interventi e poi eventualmente continuiamo con con questi link che fanno vedere praticamente che cosa che cosa abbiamo fatto finora d'accordo sì 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 quindi se qualcuno avesse domande sulla parte diciamo teorica che ha fatto che ha chiamato noiosa che invece per niente è stata allora procediamo adesso con le domande se no poi passiamo invece all'esame di questi link prego anche su chat volendo sì 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 come volete potrei farla io una domanda se si è installato Wikibase e hai intentato diversi quindi non sbaglio sicuramente almeno una no sei trovato diciamo con un'operazione di una certa complessità o hai insomma è stato relativamente facile l'hai sincronizzata con l'hai federata con Wikibase con Wikidata se non ricordo male allora io direi di fare così guarda diciamo per rispondere alla domanda lo vediamo subito ora spero che parta correttamente sì è partita la condizione perché ho condiviso lo schermo nella finestra la allarghiamo un po' ecco ora si si dovrebbe vedere meglio allora niente diciamo in questo momento in questo momento ci si può iscrivere ci si può iscrivere secondo un criterio di priorità ancora in beta cioè non siamo ancora nel rilascio diciamo definitivo del cloud ancora ci sono molte cose da aggiustare ora se c'è tempo vedremo anche diciamo le cose che in questo momento dove stanno lavorando ecco qui trovate ovviamente mi sono iscritto e questa che vedete è la dashboard ecco qui i tuoi wikibase quindi create new wiki è molto semplice il wiki viene creato subito ed è un wiki totalmente indipendente cioè è un wiki data in miniatura dove uno può decidere il nome delle proprietà può decidere le classi eccetera quindi in pratica crea una vera e propria ontologia ovviamente qui è la configurazione la rotellina della configurazione l'indirizzo smart meta è il nome che viene creato uno può creare anche se vuole un dominio personale pippo punto it può può essere wiki base cloud se uno non ha un dominio personale usa smart meta come wiki base cloud che è comune a tutti i domini questo è il logo che ho creato che ho caricato io qui c'è da caricare il logo ma insomma non c'è un qui ci sono va bene per come si gestiscono gli account cioè chi può sostanzialmente chi può aggiornare questo wiki base ecco qui è una parte molto per chi immagino voi conoscete tutti molto bene wiki data ci sono determinate proprietà che implicano delle azioni specifiche per esempio la p31 che è istanza di e la p279 sotto classe di sono proprietà che comportano poi delle azioni particolari a livello di ontologia oppure la p1630 è sostanzialmente per che riguarda un sostanzialmente sono degli indirizzi speciali tipicamente indirizzi per esempio pensiamo a repertori come il nuovo soggettario indirizzi di tipo sempre url che hanno una parte fissa e una parte parametrica ecco per usare questo tipo di indirizzi wiki data utilizza url formatting url in inglese ora non so la traduzione italiana ecco se si vuole avere le stesse funzionalità di wiki data anche nella propria istanza wiki base si possono mappare queste due proprietà ora nel mio wiki base metodati intelligenti la p31 si chiama p1 la p279 si chiama p2 e la p1630 si chiama p3 poi le funzionalità sono le stesse lo stesso si può fare per le classi vabbè l'exim c'è la possibilità anche di usare l'exim basta poi in pratica funziona tutto subito quindi è davvero molto semplice ora magari vedremo vedremo torniamo alla dashboard e qui c'è una domanda di un intervento di Tiziana a proposito di wiki base mi pare di aver capito da una recente rappresentazione che se si abbia utilizzato wiki base per i loro work identity system mi chiedo quando sia possibile personalizzare logiche di wiki base rispetto ai propri dati tanto invece sia se non so altrimenti prova a migliorare ma dunque nell'esperienza che abbiamo avuto al laboratorio 4 magari se c'è qualcuno del laboratorio 4 ah il laboratorio 4 non l'ho spiegato diciamolo per chi non lo conosce sostanzialmente AIB Rete delle Reti e Blida nel diciamo si sono messi assieme per studiare la possibilità di sfruttare meglio i fondi comunitari non tanto i finanziamenti che eroga direttamente la Commissione Europea quanto i progetti regionali i por progetti a livello nazionale eccetera quindi avere sostanzialmente dei progetti pronti per sfruttare questo tipo di finanziamenti sono stati creati 10 laboratori virtuali che si sono occupati della Green Library e tanti altri temi ora non li elenchiamo tutti i 10 uno si è occupato del web archiving ad esempio un laboratorio si è il laboratorio 4 si è occupato di metadati metadati intelligenti o smart metadata che ha lavorato proprio con Wikibase ecco per rispondere alla domanda di Tiziana è davvero flessibile nel senso che diciamo è totalmente diciamo che è una meta il modello dei dati è un modello dei dati elementari è un metamodello molto molto semplificato molto semplice più che semplificato però consente sostanzialmente di fare molte cose non impone particolari vincoli questa è la nostra esperienza ora poi bisogna ovviamente vedere quali sono le esigenze il il vantaggio in Wikibase Cloud è che una volta installato tutto è pronto quindi che cosa una volta installato qui è il frutto del lavoro che abbiamo fatto questa è un'istanza Wikibase di Lore magari la mettiamo un po' così si vede meglio va bene qui alcune entità sono state serializzate perché non appena viene immessa un'entità questa è visibile subito con è presente subito con il linguaggio del Google Sematic quindi qui l'entità che ha un suo indirizzo è subito accessibile ecco dunque vediamo di vedere questo è un esempio ecco ovviamente il le entità immesse sono ricercabili con Sparkle tipicamente quindi sostanzialmente la ricerca che ho fatto la ricerca dunque modifica Sparkle è questa quella che ho fatto che riguarda ovviamente tramite usando Sparkle quindi non è l'unica possibilità di cercare quindi c'è subito la ricerca Sparkle nativa un po' complicata poi questo Sparkle è complicato di suo non sempre conviene usare Sparkle ad esempio in questo caso non convenivo per trovare un sì e no per trovare un libro specifico in questo caso un articolo specifico ecco scusate questa è la bibliografia tematica sul co-working del gruppo AIB sul co-working che è stata usata come test qui abbiamo sostanzialmente registrato è una bibliografia la bibliografia degli host cioè ad esempio delle pubblicazioni che contengono articoli oppure tipicamente riviste e quindi qui trovate le pubblicazioni o tipicamente le riviste per esempio la rivista territorio fa parte di questo è l'host bibliografia tematica sul co-working è una rivista scientifica territorio editore l'anno di pubblicazione e così via qui invece trovate tutti gli elementi tutti eccola qui gli elementi cioè gli articoli sostanzialmente prendiamo uno a caso istanza di articolo scientifico fa parte di bibliografia tematica sul co-working l'autore S ora se siete interessati vediamo perché l'autore S è il titolo dato in questo modo pubblicato in questo è un link il DOI e così via questo usa la proprietà del URL formatting quindi è cliccabile però bisogna usare come vi dicevo anche il Wikidata il 1630 torniamo basta io direi che mi fermo qui quindi sostanzialmente si possono creare dunque le modalità di creazione come si creano in Wikibase le varie entità si creano sostanzialmente come come in Wikidata si può si può creare un nuovo elemento quindi sostanzialmente new item new e si può si può creare ah certo bisogna accedere scusate scusate su un su un elemento creato facilmente quindi ed è esattamente quello che trovereste in Wikidata ma ovviamente si possono usare si può usare strumenti di importazione massiva i quick statements quindi da un foglio Excel avete un milione di dati da inserire why not quick statement lo fa per voi vi popola una volta ovviamente creato l'ontologia pulito i dati con opere fine eccetera come si fa di solito si possono importare i metodati intelligenti c'è il cradle che sostanzialmente è la possibilità di creare delle forme per immettere i dati senza passare dall'interfaccia ecco elemento di base bibliografia tematica co-working quindi diciamo ci sono delle forme per creare diciamo l'host oppure l'elemento di base quindi l'articolo oppure la rivista che ospita l'articolo come si creano queste forme queste forme si creano ecco qui vedete controllo del cradle basta creare una pagina che ha una sintassi specifica project cradle una volta creata questa pagina si immettono le proprietà possibili ad esempio la p102 è obbligatoria potete mettere anche che determinate risposte utilizzino una sono obbligatorie utilizzano utilizzino una determinata tabella cioè possibilità cioè ad esempio un oggetto per un'entità si può scegliere solo da una determinata classe molto molto elementare però molto molto utile per l'immissione dei dati abbiamo provato anche addirittura LRM l'ontologia LRM quindi vedete tutto ecco qui abbiamo tutte le classi non tutte in realtà ma quelle fondamentali che ci sono servite per la sperimentazione di LRM abbiamo fatto anche mi fermo qui se ci sono altre domande visto che il tempo sta volando velocemente abbiamo poco meno di un quarto d'ora diciamo sull'orario tipico che facciamo Tiziana parlava chiedeva se ha utilizzato Wikibase per il loro work identity che è uscita poco io non lo so non so se qualcuno dei presenti lo sa non lo escluderei però è una enormità e vabbè sulla qualità dei dati sulla qualità di duplicazioni ci sarebbe da discutere a me non ha fatto una buona impressione iniziale però ovviamente è la grande sfida della riconciliazione mondiale quello che è mai peggio il via come impresa perché l'esonimità dei dati che sono contenuti nel tuo work è veramente tantissima ti volevo domandare Giovanni se comunque lascio spazio mentre anche in chat per rispondere su questa questione del work identity basato a Wikibase volevo chiedi Giovanni se c'è il mix and match anche incluso nel così come ho visto il big statement dentro Wikibase se è incluso scusa mix and match cioè il riconciliatore questo ok ok mix and match sì sì no no scusami non avevo no in questo momento no però diciamo se la comunità lo chiede in questo momento la situazione è un po' critica ora vi faccio vedere una cosa ovviamente molto più complesso da fare sì allora diciamo Wikibase Cloud è partito con il nome di Wubistack l'anno scorso a titolo super super sperimentale e poi c'è stata la prima migrazione durante l'estate in Wikibase Cloud ovviamente durante la migrazione non ha funzionato come al solito niente si è bloccato tutto siamo stati fermi praticamente un paio di mesi e alla ripartenza praticamente si sono accorti che tenere delle istanze in questo modo consumava molte molte risorse quindi hanno dovuto fare tutto un lavoro di ottimizzazione e non tutte le funzionalità sono attive cioè le funzionalità di base ci sono tutte c'è una ricerca ahora io nella slide l'avevo messa ecco allora Cradle sta funzionando QuickStatement sta funzionando Sparkle anche per query federate qui non ho provato cioè si può federare le query cioè interrogare per esempio contemporaneamente Wikidata e metodati intelligenti o altri Wikibase invece l'api di Serious Search Elasticsearch in questo momento ha dei problemi cioè funziona per quanto riguarda la mia installazione di Wikibase cioè metodati intelligenti però non funziona ancora non viene attivata per i nuovi Wikibase Cloud fino a quando non hanno capito come mai Elasticsearch non blocca tutti e non quindi stanno lavorando per ottimizzare le risorse voi sapete che ovviamente se io devo fare semplifico molto se io voglio sapere tutti i sindaci che sono di sesso femminile nelle città europee una query sparkle è perfetta mentre invece se voglio cercare per troncamento o se voglio cercare full text la query sparkle è totalmente inefficiente cioè se voglio cercare diciamo in una stringa una parola nel titolo un titolo che contiene due parole la query sparkle è totalmente inefficiente quindi Wikidata è dotata per questo tipo di query di Elasticsearch che ha diciamo delle sue API che possono essere usate che facilitano la ricerca dall'interfaccia web per esempio la bibliografia sul co-working e questo è totalmente sperimentale è accessibile anche da un'interfaccia web quindi se io cerco vabbè il suolo credo non ci sia ma se cerco vabbè ora guardiamo creative per esempio cerca ne ho provati i tre e ad esempio posso cercare per tipicamente anche per troncamento quindi crea è la ricerca classica dei dati che tipicamente facciamo in OPAC noi videotecari li conosciamo bene ecco qui ovviamente Sparkle non serve assolutamente a niente bisogna usare ecco il non funzionamento di questo tipo di ricerca pone seri problemi quindi sono due tipologie di ricerca che sono fondamentali ecco in questo momento sta funzionando assolutamente bene quella di Sparkle non sta funzionando per i nuovi per i nuovi Wikibase nuove istanze di Wikibase Cloud create non sta funzionando un saluto a Valdo che ci deve lasciare allora ecco perfetto sì vi ho raccontato tutto l'ultima cosa magari interrompetemi se ci sono altre domande il link alle linee guida per l'utilizzo di Wikibase Cloud in progetto di gestione dei metodati e delle biblioteche che è il deliverable del laboratorio 4 dove vedete diciamo Bargioni ha coordinato questo laboratorio Stefano ha coordinato questo laboratorio e assieme a Stefano abbiamo lavorato io e Valentina Lepore qui trovate un po' un po' diciamo le cose che ci siamo detti oggi a un livello di dettaglio ovviamente maggiore e anche con una piccola bibliografia finale concordo con la valutazione del foro sui diversi sistemi ed è per lo stesso motivo che anche nei progetti Schar combiniamo un DB relazionale un triple store un invertit infatti è la soluzione perfetto Tiziana è la soluzione che usa anche Wikibase cioè come sapete Wikibase ma anche Wikidata è basato su sostanzialmente su MySQL ora sarà probabilmente MariaDB sarà probabilmente e quindi abbiamo sia il database relazionale sia il trial post-door cioè diciamo il diciamo il motore che indicizza i dati per renderli disponibili attraverso le query Sparkle e anche appunto come correttamente lo chiama Tiziana l'inverted index che lo rende disponibile da Elasti Search oppure Solar eccetera ah il link il link a Zenodo o Zenodo in chat lo mettiamo l'ho messo io adesso ah perfetto grazie spero che mi non avrò trascritto male sì esatto è davvero importante tra l'altro ecco una in questi giorni stavo vedendo l'evoluzione di sarà molto interessante questo soprattutto ovviamente riguarda l'indicizzazione full text la possibilità di utilizzare indicizzazioni come quella io ho semplicemente visto ovviamente non l'ho mai provata ma indicizzazioni come quella che offre Vespa Vespa come la famosa Vespa non so se è un acronimo probabilmente sì è un motore molto interessante perché fa uso delle tecniche del machine learning e dell'intelligenza artificiale quindi quindi anche ad esempio per per aiuto possiamo vederlo ovviamente anche dal punto di vista dell'utente cioè la possibilità di per esempio tutte le tecnologie di trattamento del linguaggio naturale cioè capire cioè capire dal linguaggio naturale l'utente che cerca qualcosa con le sue parole trattare le parole dell'utente per permettergli di cercare questo ovviamente significa usare queste tecnologie ma anche poi tutta una serie di indicizzazione che facilita le connessioni quindi diciamo molto interessante questa tipologia di ricerca su questo bisognerebbe lavorare perché anche recentemente ho avuto ho letto qualcuno che correttamente si chiedeva ma come con il web semantico abbandoneremo diciamo i metodi di ricerca tradizionale useremo solo Sparkle assolutamente no cioè ovviamente l'accesso per Sparkle una possibilità molto potente per arrivare a determinati risultati quindi se si sanno le proprietà sostanzialmente che si vogliono cercare Sparkle è in grado di trovare tutte le entità mentre invece se se io appunto ho bisogno di ricerche tradizionali da motore di ricerca è evidente che l'indicizzazione tipo Elasticsearch Solar è molto utile vedremo che cosa succederà con ricerche ecco sì sì passiamo a questa con ricerche tipo Vespa o cose di questo tipo che mi sembra ecco uno una possibile evoluzione dei sistemi di ricerca sicuramente questa panoramica è stata notevole io direi che come avevamo già intuito quando iniziamo un altro quattro no iniziamo di fronte allo strumento Wikibase e Wikibase Cloud di una tale diciamo così potenza che devi studiartelo a fondo prima di riuscire a capire come utilizzarlo per le sue possibili interessi costruire per esempio come un cd tutto questo che non è canonico la biblioteca è sempre importante perché finirebbe per essere un'alternativa magari una grossa spesa o un grosso progetto che devi affrontare per integrarlo appunto al sistema che hai quindi lavorare in un ambiente di LinkedIn data Wikibase ti aiuta se hai impostato che ti stai muovendo in questa linea grazie due anni di questo anche perché dopo hai aperto quest'ultima cosa dell'interzione applicare che sempre è di contro l'angra con il bacino dal negno anche se ovviamente deve stare attenti al solito a dare all'utenza certezze perché alla fine non vogliono troppo rumore carezza eccetera e questa è una bella battaglia però è quella che stiamo affrontando ormai da tempo in tanti cercando di avere questi strumenti e queste logiche di catalogazione RDA eccetera che sicuramente ci danno ci danno una mano per questo diciamo che siamo giusti arrivati salvo ovviamente Giovanni immagino sia disponibile per altre cose per domande anche offline però a questo punto ringrazierei veramente concluderei l'incontro e ci rivediamo nelle prossime per le prossime occasioni pubbicheremo sempre la nostra mailing list un buon saluto Giovanni grazie a te di nuovo allora grazie anche a voi che anche quelli che ci hanno seguito anche a quelli che sono che dovevano chiudere un ringraziamento anche a quelli che ci ascolteranno offline che ascolteranno la registrazione qualcuno mi ha chiesto la registrazione perché non era disponibile grazie per l'opportunità a disposizione un saluto a tutti un saluto grazie a tutti Grazie a tutti.